Salve, il mio nome è Daniele Penna, sono il cofondatore di Neonisi.com. Siamo qui a SMAO nel percorso di innovazione come azienda innovativa per quanto riguarda il settore dell'e-commerce e delle aste online. Infatti Neonisi.com è una piattaforma che fa questo come primo lavoro, ovvero e-commerce e aste online. Può sembrare un semplice marketplace come un po' e-bay, quindi una piattaforma dove chiunque può vendere e comprare online. La prima innovazione che presentiamo qui a SMAO è la possibilità per chiunque che ha già un negozio e-bay o un e-commerce di poter importare tutti i propri prodotti e tenerli sincronizzati, quindi sempre senza dover muovere qualcosa a mano, quindi tutto in automatico e con pochi clic, di poter importare tutti i prodotti su Neonisi.com. Quindi questo vuol dire poter avere una maggiore visibilità, maggiori vendite, maggiori clienti. Ovviamente tutto questo è gratuito, in quanto Neonisi non ha costi di inserzione, quindi si possono inserire migliaia di prodotti senza pagare assolutamente nulla. Si può avere un negozio online e tante altre funzioni, un po' come funziona anche sulle altre piattaforme. Ma questa non è soltanto l'unica innovazione. In realtà la vera innovazione di Neonisi.com è che, a differenza dei classici marketplace, Neonisi fa anche da business place, ovvero non si può soltanto comprare o vendere online, ma si può anche fare affari. In pratica il business place mette in contatto neoimprenditori con aziende, ovvero da una parte gli imprenditori che vogliono fare impresa online ma magari non hanno fondi da investire, quindi vorrebbero vendere dei prodotti ma non hanno capitali per poter acquistare questi prodotti. E grazie all'integrazione del dropshipping, ovvero della vendita senza magazzino, questi venditori potranno soffrire di migliaia di prodotti da poter vendere senza doversi preoccupare di doverli acquistare prima, di doverli stoccare, di doverli impacchettare, spedire o gestire i resi. Perché questo sarà fatto dalle aziende dropshipper. Dall'altra parte il grosso vantaggio è per le aziende di vendita o di distribuzione, che vorrebbero entrare online ma che magari non vogliono investire, che magari non hanno tempo, non hanno risorse. Per loro c'è la possibilità di poter soffrire di migliaia di venditori professionisti del web che venderanno i loro prodotti. Quindi in pratica per le aziende che hanno prodotti da vendere, prodotti che distribuiscono o che producono o magari hanno degli stock di prodotti invenduti, la possibilità di avere una rete vendita di professionisti del web che vende i propri prodotti online. Quindi per chiunque fosse interessato a avere maggiore visibilità online, a entrare nel business della vendita online oppure a avere nuovi venditori che vendono i propri prodotti, vi invito a visitare il nostro sito neonisi.com oppure a mandare una mail a infochiocciola neonisi.com. Grazie.